Ciao, sono Loretta Agnelli, fondatrice di Trading Casa, l'agenzia che non chiede l'esclusiva. In questo video voglio svelarti come preparare la tua casa alla vendita in modo da ottenere il massimo dall'operazione. La preparazione della casa è un passaggio estremamente importante se vuoi vendere il tuo immobile con successo e in fretta. Devi sapere che investire sulla sua presentazione è infatti una mossa strategica. Non sono soldi buttati, fidati, ma è solo da guadagnarci. La tua casa ha bisogno di piccoli ritocchi come ad esempio una tinteggiatura? È il momento di farli. Se decidi di imbiancare, prediligi tinte neutre, meglio secchiare in modo da ampliare ed illuminare gli spazi. Depersonalizzare gli ambienti e renderli più apprezzabili. E ancora, c'è qualche manutenzione da fare? Approfittale! Cura al massimo l'aspetto del tuo immobile, sia delle parti interne sia esterne, balconi e giardini inclusi. Un'altra cosa che puoi fare è togliere, liberando spazio. Elimina i complementi di arredo o l'arredo superfluo, così da rendere la tua casa meno tua e più vicina ai gusti degli altri. Ti suonerà strano, ma i luoghi troppo vissuti non agevolano il processo di immedesimazione. L'immaginazione si blocca ed è difficile vedersi in quegli ambienti. Infine, pulisci, riordina, illumina al meglio ogni stanza. La luce arreda e riscalda. Nulla è più triste di un soggiorno buio non appena avarcata la soglia d'ingresso. Non dimenticarlo mai! Presentare la tua casa al meglio ti porterà un grande risultato. Bene, ora non resta che metterti all'opera. E se desideri una vendita veloce e sicura, contattaci. Saremo lieti di aiutarti dall'inizio alla fine dell'operazione, senza chiederti nessuna esclusiva. Richiedici la tua consulenza personalizzata e senza impegno.